Si continua a sparare a Bitonto, è il terzo agguato in un mese e mezzo. Nel pomeriggio intorno alle 17.30 i killer hanno aperto il fuoco contro Giuseppe Muzio, 31 anni, con precedenti penali. L'episodio è venuto in pieno centro a pochi passi dalla Basilica dei Santi Medici. Le condizioni di Muzio non sarebbero gravi, la polizia sta cercando di ricostruire dinamica e movente dell'agguato. Degli elementi raccolti finora è emerso che l'uomo era per strada quando il sicario, insieme con un complice a bordo di una moto, l'ha affiancato facendo fuoco, poi la fuga a tutta velocità. Muzio è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, poi i medici hanno disposto il trasferimento al San Paolo di Bari. Muzio ha riportato una ferita ad una spalla, se la caverà in un paio di settimane. Questo ennesimo agguato conferma il clima di tensione che ormai da mesi si respira a Bitonto. Una situazione critica che nelle scorse settimane ha confermato anche il sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, in un incontro in prefettura, riunione durante la quale annunciò il potenziamento dei controlli per frenare i contrasti tra le organizzazioni criminali locali per la gestione dei traffici illeciti. L'ultima sparatoria a Bitonto è avvenuta il 2 luglio scorso. In pieno centro fu ferito il 38enne Michele Lia, presunto boss locale, morto il giorno dopo in seguito alle gravi ferite. Non è escluso che l'episodio di stasera possa essere una risposta.